Parliamo di Losers, nascita del primo settimanale seinen manga giapponese. Come vedete qui sotto si parlerà durante i tre volumi, se non ricordo male saranno tre, si parlerà della nascita di questa rivista che è manga action e soprattutto dei protagonisti che sono stati all'interno di questa rivista, quindi Monkey Punch, autore di Lupin III, Kazuo Koike Gozeki Kojima, autore di Lone Wolf e Cub, Yoshito Usui, autore di Cranio Shinchan, ma poi ho visto che ci sono altri autori grandiosi tipo il nostro Kazuo Kamimura. Quest'opera ha vinto anche alcuni prestigiosi premi come il Konomanga Gatsuko 2019, Best Manga 2019 Konomanga Uo Yome e il Bros Comic Award 2018. Di cosa parla Losers? Appunto, come dice la copertina della nascita di Manga Action, il primo settimanale seinen giapponese. Dopo vi parlo anche un pochino dell'edizione che costa 7,50€ uscita per i tipi di Nippon Shock edizioni, che faranno altre sorprese molto interessanti prossimamente. Praticamente fa vedere sin dall'inizio di questa grande storia degli anni 60 come gli editor di questa rivista, della Futabasha, questa casa editrice che a differenza dei grandi colossi come Kodansha, Shogakkan, poi Shuesha anche in seguito, non era in un grandissimo edificio multipiano ma era in questo edificio a due piani totalmente in legno. Inizialmente se la passavano molto male perché praticamente avevano delle riviste che non andavano benissimo. Avevano una rivista di manga che si chiamava, se non ricordo male, Manga Story, che non andava così bene e che era una delle prime a proporre manga per adulti, dopo le antologie che avevamo visto del maestro Tatsumi e quella roba comunque di quello che sarebbe diventato poi il Geki Gakobo, come le antologie Kage, come l'antologia Città, quelle che uscivano come dei libri però in fumetteria, contenenti queste storie autoconclusive. A parte quel tipo di manga drammatico, quindi quello che sarebbe poi stato conosciuto come Gekiga, quello che era il manga per adulti, in realtà in Giappone, erano queste strisce, queste vignette, queste gag comiche, che erano un pochino quelle che venivano di derivazione dal Japan Punch, dal Tokyo Pack, quella di Rakuten Kitazawa, quindi non erano veri e propri fumetti manga per come li conosciamo oggi, ma appunto delle vignette, delle piccole strisce satiriche molto leggere, neanche troppo ficcanti. Un giorno praticamente in questa redazione arriva un manga che però viene buttato nel cestino da un addetto, perché non lo ritiene per niente interessante, solo che poi lo ritrova uno di questi caporedattori, proprio il caporedattore di manga story, questo manga dojishi, quindi autoprodotto, è questo qui, e già si riconosce lo stile dalla copertina, fatto da un collettivo di autori che però in realtà poi diventerà uno solo, perché gli altri molleranno tutti il fumetto, ed è Kazuhiko Kato, ovvero quello che diventerà Monkey Punch, questo ragazzo qui che all'epoca lavorava in una ditta, e qui è quando lo chiama quel redattore. Quindi nel primo numero vediamo appunto come lui diventi fumettista, insieme al fratello che lo aiuta nella stesura del fumetto, come impari a disegnare anche le donne, ad esempio, che non sapeva disegnare facendo un corso di disegno dal vivo, come sia appassionato della rivista Mad, la rivista della DC Comics Mad, di quanta difficoltà ci fosse per fare fumetti all'epoca, dato che però era una cosa prettamente per bambini per quanto riguarda almeno le riviste, a parte queste cose che uscivano nelle librerie a prestito, e la nascita del soprannome, del nome d'arte Monkey Punch, e delle sue prime opere. Quindi davvero interessantissimo. Lo stile di disegno è proprio molto molto chiaro di questo autore, chiaro e pulito come secondo me dovrebbe essere esattamente un manga biografico, e questo non è proprio la biografia di Monkey Punch, però è come se fosse la biografia di questa rivista, è un pochino anche di questa casa editrice. Quindi sicuramente è giusto che sia così lo stile di disegno, senza troppi fronzoli artistici non necessari, ma molto molto pulito e disegnato bene secondo me. Contiene anche un'intervista a il fratello e lo stesso Monkey Punch, interessantissima, e una cronologia in fondo su tutti gli eventi appunto dal dopoguerra sino agli anni 2000. Il costo è 7,50€, l'editore è Nippon Shock, purtroppo non c'è ancora su Amazon, non so se lo metteranno, spero di sì, spero che arrivi anche su Mangaio in modo che potete prenderlo lì, per ora potete sentire l'editore direttamente, e se lo fate diteli che vi mando io per appunto acquistare la vostra coppia. E per chi mi sta guardando su YouTube, se volete prendere questa maglietta, qui sotto trovate il link per Pampling, usate ovviamente il codice Chirio. Grazie a tutti.